Buongiorno a tutti, eccoci di nuovo in un contesto familiare, questo interno che ormai ci accomuna, ci rende tutti simili, tutti diversi. Un'altra cosa che ci accomuna è il fatto che ci incontriamo su un canale tematico come quello di Officine per parlare di cose che hanno a che fare con la fotografia. La primissima cosa che viene naturale fare è ringraziare per l'attenzione che è stata data al precedente incontro e anche, come dire, specificare che questi incontri sono un po' come se ci prendessimo un caffè tutti insieme e facessimo due chiacchiere, un po' più organizzate magari, ma questa per esempio, quella di oggi, è un po' un argomento che spesso mi capita di trattare a lezione, però poi alla fine parliamone in una maniera sdrammatizzata, non troppo accademica, cerchiamo insomma di capire qual è il succo del discorso. Il discorso di oggi ha a che fare con la grana. La grana, quella che si fa, non c'entra. La grana, il grana, quello che si mangia, non c'entra. C'entra però la tessitura, la tramatura dell'immagine perché l'immagine e la sua tramatura ci parlano. Ci parlano sono qualcosa che ha a che fare con il DNA stesso dell'oggetto fotografico. Parleremo di questo anche più avanti, però voglio anticipare la parte, diciamo così, nozionistica o quantomeno accademica del discorso. Tutto questo deriva da un importante, interessante, da un importante contributo offerto da Elizabeth Edwards e Janice Hart in un bel libro chiamato Photographs, Objects, Histories, edito da Rutledge, un bel libro ponderoso. È un libro che nasce nel 2004, poi è stato ripubblicato, però questo libro ha a che fare con uno spostamento di peso. La fotografia va considerata come un oggetto che ha una storia, cioè non è soltanto una tecnica o un insieme di tecniche che hanno una propria storia, ma dal luogo a cose, a oggetti che hanno ognuno una propria biografia sociale. Ed è questo il termine fondamentale che Elizabeth Edwards prende da una tradizione di studi storici, storiografici essenzialmente, e questa è una tradizione che si è sempre mossa tra storia e antropologia, parlando di, diciamo, prima della vita sociale delle cose, e quindi stabilendo come avrebbe potuto fare, non so, Mario Cresci nel lavoro sugli oggetti della cultura materiale, parlando quindi di questo legame che c'è fra le cose e la vita, cioè il fatto che una fotografia, un oggetto fotografico, le sue pieghe, le sue grinze, i suoi danni, le scritte che ci sono sul suo retro, anche soltanto il fatto che sia con te da sempre o che tu la recuperi dopo tanto tempo, o solo qualunque sia il suo rapporto col tuo vissuto, quella fotografia ha una, diciamo così, quegli eventi costruiscono una biografia sociale di quell'immagine. Quello che voglio dire io oggi ha a che fare con un tema molto più semplice, pop quasi, vorrei dire di intrattenimento, e cioè ha a che fare con questo, con un disco, con un disco degli U2, del 2000, All That You Can't Leave Behind, un disco che ha una sua storia ma che vorrei fare piano piano, farvi entrare piano piano nella logica che porta insieme un libro come quello che avete visto, e un disco come questo che avrete sicuramente sentito. Allora, piccolo aneddoto, mi trovavo sulla spiaggia del litorale romano, diciamo non dove, più o meno nel 2000, all'epoca passavano, si poi erano i ragazzi con dei borsoni giganteschi, pieni di cd finti, di cd piratati, che vendevano a 5 euro, insomma cose così, e ormai era diventata consuetudine che acquistassi una certa quantità di, non enorme, ma insomma una certa quantità di dischi, e tra questi un giorno c'era questo disco degli U2. non l'avevo ancora sentito, all'epoca, non è grave, lo porto a casa, lo sento, poi ovviamente col tempo ho comprato quello originale, che succede? Che c'hai una busta dentro un cd senza scritto niente, allora la cosa che fai è cerchi online con il mio modem 56 e 6, che era una cosa che dentro c'era il criceto che pedalava pesantemente per riuscire a mandare avanti la cosa, e mi scarico la copertina del disco per potermela stampare, e usando una shell vuota che poteva essermi rimasta, costruirmi una parvenza, un simulacro di opera originale, con la copertina e il disco dentro. Naturalmente è durata quanto è durata, però questa copertina, questa copertina che vi mostro, è stata per lungo tempo la mia copertina del disco, e questo per me bastava, però mi sono andato presto a comprare l'originale, perché qualcosa mi diceva che mi mancava un pezzo, e il fatto è che quando poi ti compri l'originale, ti rendi conto che l'originale ha un leaflet, questo qui, molto ricco, pieno di altre immagini che non sono quelle, la singola immagine, insomma, frontale, c'è tutto un bel servizio fotografico di Anton Corbain, come tutta la copertina di Anton Corbain, però attenzione, poi di questo parleremo noi in effetti, e guardavo la copertina e i conti non tornavano, e quindi ho incominciato a riflettere a suo tempo, e tant'è vero che poi dopo il saggio che ne è uscito fuori è stato pubblicato su un libro che non in molti conoscono, questo è l'inizio del saggio, questo è il libro, che non tutti sanno che esiste, ed è in una forma molto... una via di mezzo tra una forma definitiva e un abbozzo, il saggio. Ci ho fatto lezioni parecchie volte sopra, e quindi nel frattempo mi sono un po' anche documentato, ma la questione diventa un'altra, è, cioè, che cosa distingue quella copertina da questa copertina? Che cosa le rende diverse? La grana, quindi il dettaglio, certo la materialità, il foglio sciolto rispetto all'oggetto rilegato in brossura, con una carta particolare, e questo è già qualcosa che fa la differenza tra una storia, tra una biografia sociale dell'immagine e un'altra. Però conta molto anche il dettaglio dell'oggetto, il dettaglio dell'oggetto ci parla di queste due vite parallele che ha avuto l'immagine di Anton Corbine. Veniamo a lui. La copertina del disco è stata realizzata con i materiali fotografici forniti da Anton Corbine, che tra l'altro ha lavorato in una quantità... ha lavorato per 30 anni, ad oggi ha 30 anni il lavoro di Corbine con gli U2, ha avuto altrettanta longevità il lavoro che ha fatto con i Depeche Mode. Non è un caso che ci siano anche delle somiglianze spirituali, di concezioni culturali tra i vari gruppi e Anton Corbine stesso. Però la copertina è stata realizzata dallo studio 451 di Dublino, in particolar modo dall'art director Steve Averill e da Sean McGrath, i quali in una conferenza hanno anche avuto modo di spiegare molto chiaramente quali sono stati i loro interventi sui lavori delle varie copertine degli U2. E questa in particolare è una copertina che merita un po' di attenzione. Ci troviamo all'interno del terminal 2F dell'aeroporto parigino di Roissy, che per molti, diciamo così, old schoolers si chiama ancora Charles de Gaulle. E noi vediamo una cosa molto evidente, vediamo qualcosa che oggi non vedremmo. Oggi questo spazio appare così. questo viene da un blog e da qualcuno che naturalmente conoscendo bene la copertina ha detto, beh, aspetta, fammela fotografare questa zona così famosa, questa zona così... se questo collimi esattamente o meno, poco conta. Allora, torniamo a noi. A noi sembra una foto molto spontanea, no? Non ci sembra una cosa particolarmente messa in posa. In realtà, noi vediamo addirittura qualcosa che ci fa sembrare che la foto sia stata catturata quasi per caso. Il batterista degli U2 che fa capolino da dietro le spalle di Bonovox, Bonovox che invece di guardare in macchina sta controllando il passaporto, il gruppo con più o meno tutto quello che ti puoi portare appresso in un viaggio aereo, niente di che. Siamo a monte, siamo al di qua, diciamo, delle torri gemelle, quindi parliamo di un rapporto con l'aeroporto che è un rapporto ancora non nevrotico, diciamo così, nevrotico ma nei limiti. Però è evidente, tutto ci dice che è una foto costruita a perché, se non lo fosse, ci sarebbe un fiume di gente non solo perché è un aeroporto frequentatissimo, ma attorno agli U2 ci sarebbe un pellegrinaggio praticamente infinito. Quindi la loro solitudine è una solitudine metaforica, quindi già la fotografia di sé, in sé per sé, diciamo così, non ci comunica una cosa reale, ci comunica un'idea. e poi questa loro costruzione centrale, vedete che Corbine usa l'Hasselblad, per cui il suo formato è un formato squadrato, se non addirittura quadrato, e quindi lui inserisce, ed è una cosa abbastanza atipica per lui, perché lui comunque è un ritrattista, quindi difficilmente ti trovi così distante dai suoi soggetti, ti trovi mai a questa distanza, diciamo così, d'osservazione, anche dal punto di vista proprio di interazione con lo sguardo che guarda il soggetto ritratto, e quindi lui inserisce una specie di quadrato nel quadrato che diventa una composizione molto netta, soprattutto perché lui utilizza il fotochimico e usa essenzialmente, all'epoca soprattutto usava la tecnica lit, quindi aveva proprio questa granulosità forte, questo calore delle dominanti, questo suo tipico, indipendentemente dal processo che usasse, questo suo tipico alto contrasto, eccetera. Quindi riuscendo a creare una massa, diciamo così, anche se frastagliata, ma una massa scura su un fondale in chiave alta, riesce a dare l'enfasi che è necessaria al gruppo inteso come una sorta di entità organizzata e ritmica e parificata. Vedete, non c'è una gerarchia, ci sono soltanto loro lì a fare blocco. Un blocco però in cui passa aria, in cui non c'è asfissia. Ma dà a Corbine attenzione infinita anche a dei dettagli importantissimi. Allora, quello che a suo tempo stavo cercando anche io di asserire era che questa copertina sia l'originale del lavoro di Corbine, cioè del lavoro di Corbine e di McGrath e Averill. Cioè, a parte il fatto che non va in mostra quasi mai questo scatto di Corbine, quasi non lo si trova guardando i muri delle mostre si trovano tanti ritratti e questo scatto non è tra quelli che... Ma di questa serie lui tende a commercializzare altri, per esempio questo, tende a commercializzare altri scatti che hanno un altro sapore, un altro mood. Ma a prescindere da quello che è poi il suo, diciamo così, la sua abitudine commerciale, ci interessa il giusto, quello che sto cercando di dire è che la differenza fra questo scatto e... questo scatto, questa immagine e le altre immagini di Corbine è che questa immagine non esiste. Esiste soltanto qui dentro. Esiste solo dentro a questo oggetto qui di cui ne sono state vendute 12 milioni di copie. Per così dire esistono 12 milioni di originali di questa immagine. Perché questa è l'originale? Prima di tutto perché non è un'immagine singola, è una composite print di... anzi, non è una print, è una composite image, realizzata con un sotto e un sopra. Addirittura McGrath dice gli ho alzato l'aeroporto di 10 metri. Cioè ha dovuto prendere un'altra immagine per incastrarla, cioè blending l'immagine su quella sotto per creare questa ariosità che altrimenti non c'era. A che serve questa ariosità? Serve al formato della copertina. Quindi non serve né all'architettura né al gruppo, serve solo all'oggetto finale che è quadrato. Era quadrata anche la foto di partenza ma non aveva diciamo così l'equilibrio giusto. E soprattutto serve inserire dei dettagli fondamentali. In particolar modo un dettaglio che è totalmente entrato in post-produzione. Cioè voi vedete avete già visto anche nella foto diciamo così turistica dell'aeroporto che vi ho fatto vedere ci sono queste indicazioni dei gate. In questa copertina invece il gate il numero del gate è sostituito da una serie di lette e numeri. solitamente faccio un quiz e dico che cos'è che compare solitamente in questa forma j33.3 solitamente di solito mi dicono sempre ma sarà il gate quando mai un gate ha un numero puntato con un altro cioè che vi danno la porta e il numero di passi che dovete fare per entrarci? No, evidentemente quella è una citazione biblica. E lì viene il punto Corbine ha una famiglia che sia padre ma soprattutto padre nonno ma anche madre aveva una forte un forte coinvolgimento nonostante fossero diciamo così olandesi quindi non certo irlandesi cattolici come invece gli U2 però avevano un forte coinvolgimento con la con la parte religiosa se volete della della spirituale della vita e questo è un elemento che mette in comunicazione facilmente Corbine col gruppo degli U2 che sono irlandesi cattolici allora il e tra l'altro anche con i Depeche Mode perché se ricordate c'è addirittura un LP che si chiama Songs of Faith and Devotion c'è stata dopo un'ubriacatura di successo c'è stato un momento di ritorno all'elemento spirituale collegato anche ai fattori alle tossicodipendenze tutta una serie di situazioni inutile stare qua a indagare più di tanto sta di fatto Corbine è capace di sentire anche perché Corbine lavora di tavolino lavora pochissimo sui testi dice che non li legge perché non li capisce per cui lavora molto sul mood delle situazioni però qui insomma abbiamo una citazione biblica c'è chi dice che sia che dipenda dal fatto che Bono abbia detto che 33.3 è un po' il numero di telefono di Dio e al ovviamente io non ho una Bibbia ne ho una sola che è quella di Bromberg e Canarin Holy Bible però fortunatamente a Geremia 33.3 non c'è una foto ma c'è il testo anche se vicino c'è un'esplosione piuttosto terrificante e a 33.3 dice chiamami e io ti risponderò dice il signore chiamami e io ti risponderò è il numero 3 di telefono di Dio se tu chiami lui risponde cioè idealmente sarebbe così la cosa è solo questo? secondo me no io sono andato a vedere anche quando non avevo il lavoro di Bromberg e Canarin sono andato a vedere quanti altri libri della Bibbia avessero l'iniziale Jay perché secondo me e in realtà anche Jobbe perché altri cominciano con Jay ovviamente nella versione anglofono insomma ma non arrivano a 33 a 33 ci arriva Jobbe e 33 e 3 Jobbe dice le mie parole dichiareranno la rettitudine del mio cuore allora questo Jay a me pare sia anche anche McGrath è convinto che si parli di Jeremia e anzi tratta questo riferimento biblico le pinze perché non lo sa che sa che doveva mettercelo ma non ha un'idea molto precisa il grafico di che cosa stesse comunicando in realtà il committente perché dico il committente perché certamente non è farina del sacco di Corbine è post prodotta quindi lì non c'era certo 33 3 anche se alcune volte i cartelloni dell'aeroporto sono stati cambiati per scriverci U2 per fare le foto eccetera eccetera ma quello non è un cambiamento reale è un cambiamento in post non sarebbe mai così illegibile perché quei cartelloni hanno un contrasto bassissimo quindi che succede succede che in realtà questa citazione ha molto a che fare con il titolo il titolo tutto ciò che tu non puoi lasciare indietro i gruppi partono e vanno regolarmente in viaggio e lasciano sempre qualcosa a casa cos'è che non possono lasciare a casa e io in quell'anno mi trovavo nella metropolitana di Londra e ho scattato questa foto alla pubblicità del disco in uscita e vedete che dentro la valigia dentro l'ovale non c'è più niente dentro l'ovale scusate non c'è più il numero c'è una valigia con un cuore eccolo il cuore del libro di Giobbe ci interessa questa questione religiosa ci interessa perché è tra le cose che vengono comunicate dall'immagine e quindi ecco dove quel J sta tanto per forse per il discorso di Geremia ma anche per il discorso di Giobbe e comunque questo fa sì che nella foto di Corbine non ci sia né il doppio soffitto né la scritta J333 che quindi questa immagine sia sì di Corbine ma anche di Bonovox e del gruppo che è come dicono McGrath e Averill visually literate cioè sanno benissimo di che si parla quando si guarda un'immagine che loro producono e fanno produrre ma è anche di McGrath e di Averill perché effettivamente poi tutto diciamo così l'organizzazione delle cose dipende dal loro lavoro quindi che significa? Significa che quella immagine quell'originale in 12 milioni di copie è pieno di qualcosa che altrove non c'è quindi la sua biografia sociale è diversa da quella della foto di Corbine non è la stessa cosa e comunque anche fosse quelle 12 milioni di storie diverse una delle quali è la mia sono altrettante storie e dunque dei significati pertinenti rispetto a quell'immagine ed è per questo che ho fatto vedere la stampa getto d'inchiostro fatta con una stampantina di quelle veramente da 4 soldi nel 2000 perché se vado a vedere il dettaglio della mia stampante e a quel punto io incomincio a vederci dentro una serie di cose incomincio a vederci dentro lo scatto di Corbine la diciamo così il processo lit il processo di trasformazione della fotografia analogica in un tracciato tipografico che ne svilisce la qualità ma questo lo sanno tutti i grafici in tutti i libri sulle copertine di disco è ricordato che il grafico deve sapere che tutte le raffinatezze cadranno di fronte alla qualità povera diciamo così della stampa tipografica quindi devo vedere tutte quelle cose e in più nella mia stampa domestica io devo vederci il fatto che quel file perché quella copertina è stata scansionata chissà che profondità di colore chissà che densità messa in rete e da me scaricata e poi stampata chissà con quali parametri quindi io dentro quel tracciato quella grana che è quella della mia copertina mi ritrovo a vedere tutta un tutta una biografia sociale che è dell'immagine non solo dell'immagine creata dal gruppo e dal fotografo ma la storia di quell'oggetto nel suo trapasso nel tempo e nello spazio della società che l'ha veicolata fino a me e anche delle pratiche non regolamentari lo scambio di materiale coperto da copyright eccetera eccetera ma così sia anche il dettaglio della copertina reale che ci fa vedere un'altra grana e che però ci parla delle stesse cose e si ferma al mio acquisto anche quella è una biografia sociale cioè è una storia della vita di un'immagine ma di un oggetto immagine anzi di un'immagine che si è fatta oggetto e quindi è anche quella di una vita sociale dell'immagine tutti questi discorsi sulla sulla sull'immaginario e sulle immagini in quanto cose sui pensieri collegati alle cose che sono il farsi carne di un'immagine altrimenti fluttuante latente o virtuale eccetera sono tutte collegate a due appunto al libro della dell'Elizabeth Edwards e di Janice Hart e anche a uno dei grandi padri di questo tipo di analisi che è John Tagg John Tagg in questo famoso The Burden of Representation la dice tutta su questo argomento e parla giustamente della currency cioè parla della spendibilità di un'immagine e in qualche modo fa capire che ogni immagine viene spesa laddove è moneta contante quindi in certe transazioni funziona in altre no però vabbè senza andare troppo a pescare così lontano torniamo un attimo alla questione della grana per far capire anche come da qui in avanti sarà più più facile ci saranno alcuni piccoli ricami su questo discorso per far capire come questo discorso di oggi in qualche modo riprende in parte anche alcuni temi che ci eravamo dati la volta scorsa in particolar modo nel nome di Ugo Mulas ci tocca tornare di nuovo e siamo felici di farlo a una delle verifiche della 69 72 la numero 5 questa volta quella dedicata guarda un po' all'ingrandimento eccola qua questa verifica non fa altro che partire dal solito foglio provini pieno di immagini stavolta diversamente dalla primissima dedicata a Niebs questa volta ci sono tante immagini sono tutti cieli la numero 5 la verifica numero 5 è intitolata il cielo ed è dedicata alla moglie a Nini cosa succede in questa verifica succede che Mulas fa una cosa che aveva già fatto in un'altra verifica ingrandisce comincia a ingrandire ingrandendo uno di questi scatti finalmente raggiungiamo il livello diciamo così di riconoscibilità iconica del mondo nella prima immagine noi avevamo tutto un insieme di frammenti e nulla ci diceva niente in questo finalmente uno di questi frammenti diventa un'immagine e dovrebbe essere leggibile però però si tratta di un cielo come tutti gli altri sono cieli che in bianco e nero oltretutto sono solo dei gradienti di tono sono delle curve di grigi e lui ha preso solo quella un po' più ricca allora non può fare altro che ingrandire ulteriormente per vedere che succede quando ingrandisce ulteriormente e impatta la grana del degli alogenuri d'argento che ci dice ci dice la fotografia quasi mai è leggibile tutto ciò che c'è prima e dopo o più avanti o più indietro del livello iconico è materialità è matericità è merceologia perfino quindi ci dice c'è il negativo che è materia cose poi c'è un'immagine e poi se insisti è ancora di nuovo materia è l'argento è lo sminuzzamento dei sali d'argento tutto questo serve un po' a riprendere un tema che era quello che aveva aperto Michelangelo Antonioni nel 66 con Blow Up dove notoriamente un fotografo non facciamo qua la storia del film e di tutti i suoi riferimenti perché era una cosa infinita un fotografo ingrandendo guardando con cura i dettagli di una di una serie fotografica che aveva realizzato all'aperto scopre gli indizi di un di un crimine ecco il corpo della vittima ingrandire per tentare di entrare nei segreti dell'immagine è una cosa che si è fatta si è fatta pensando che dentro ci fosse il segreto che Blow Up supponeva di aver svelato in realtà Mulas scopre che non c'è nessun segreto anzi che esiste se volete un ritorno all'indietro che quando si entra troppo nell'immagine se ne rimane al di fuori e questo ovviamente è stato era 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 un un'esca troppo succulenta perché non vi abboccasse Juan Fontcuberta che nel 2009 non ha fatto altro altro che procurarsi una replica dell'originale cinematografico di Blow Up di Antonioni e ha ingrandito la grana fino alla grana diciamo quel fotogramma cioè ha fatto con il fotogramma di Antonioni ciò che Mulas ha fatto con il proprio negativo e nello stesso tempo ha fatto esattamente ciò che il fotografo nel film di Antonioni fa col proprio negativo ma per arrivare a che sempre a decretare che il livello di immagine il livello in cui un'immagine comunica o parla del mondo è un livello sottile è un po' come le frequenze delle onde che soltanto in una certa finestrella sono colori o luce bianca per il resto sono onde elettromagnetiche che hanno frequenze da noi non percepibili eventualmente percepibili sotto forma di temperatura o comunque trasformabili in impulsi di altro gene comunque decodificabili ma visibili visibile ce n'è solo una parte prima e dopo non è che smettono di esserci le onde ma noi non le vediamo prima e dopo il livello in cui è immagine non è che non c'è fotografia ma noi non la riconosciamo come un'immagine del mondo e e questa questo entrare dentro dentro questo segreto entrare nella grana delle immagini è un entrare nella dna dell'immagine effettivamente che è come dire esiste augusto ma se entri meglio c'è qualcosa che non è augusto però è ancora lui c'è un pezzo di dna rotolato a qualche parte un po' dappertutto in realtà che ci dice com'è fatto poi in realtà augusto questo se l'è domandato da sempre anche la pittura guardate questo quadro di Roy Lichtenstein del 65 questo è anche abbastanza piccolo è diciamo di lato lungo 80 cm però poi ci sono le versioni più grandi addirittura ambientali di questo di questo motivo che lui utilizza attorno a quel periodo della metà degli anni 60 questo si chiama Little Big Painting Star Whitney e vi mostro questo gioco che lui fa sulla grana dell'immagine per decretare quanto è complicato andare appresso all'immagine così com'è perché lui fa una specie di simulazione fumettistica di un gesto della action painting americana o di qualcosa che avrebbe potuto essere interpretato come tale in un periodo in cui l'action painting era ancora viva non era proprio il culmine anzi era già finito il culmine della sua importanza ma era ancora viva e però questa massa della pasta pittorica stesa con un pennello apparentemente gigantesco è trattata da Lichtenstein in modo totalmente piatto privo addirittura dei mezzi toni che ci permetterebbero di vedere la tridimensionalità di questa pasta alta e quindi restituendocene una versione totalmente bidimensionale irrealistica e quindi diciamo così ci fa vedere il rapporto luce-ombra eccetera eccetera ma codificato secondo gli stilemi del fumetto che è quello poi che lui impiega regolarmente come riferimento iconografico e ma il fondale e il fondale anche lui riporta al fumetto e riporta a una grana ulteriore quindi il colore che sono colori di Mondrian i colori primari il blu il rosso il giallo il bianco il nero sono stesi a plà cioè completamente piatti senza neanche la traccia del pennello sopra c'è una finta traccia di pennello e il fondale è fatto a retina con una simulazione stencil cioè con dei buchi su cui si passa il colore e lasciano questa foratura regolare che simula la retinatura tipografica che è quella che vi ho mostrato nell'esempio degli U2 la retinatura il retino tipografico cioè ciò che permette a noi di vedere delle immagini che a noi sembrano colorate ma sono nella loro visione ravvicinata tanti piccoli puntini colorati di magenta di giallo e di ciano e anche di nero che si mescolano col bianco del fondale per ottenere tutti i colori dell'iride si chiamano in inglese band-aid dots e sono questi i tratti che mettono in evidenza una cosa che noi vediamo più da vicino la vediamo ancora meglio ma vediamo perfettamente che questi puntini ci parlano di un'altra texture però noi notiamo noi qua adesso che guardiamo queste immagini notiamo anche che c'è qualcosa che non funziona nei gialli sì perché se ingrandiamo ancora di più ci rendiamo conto che quello che non funziona nei gialli è perché io di questa immagine di Liechtenstein ho una cartolina ho scansionato la cartolina che è stampata in tipografia anch'essa e quindi praticamente quella che vi sto mostrando non è la grana del quadro ma la grana della cartolina con diciamo con l'errore di registro sui gialli che dà questa alonatura gialla all'intera immagine entrando ancora di più si vede che è una scansione digitale perché entra la grana dei pixel non più quella della retinatura tipografica per dire tutto questo per dire che cosa per dire quello che anche Marcel Duchamp faceva e vedete come torniamo su alcune cose che abbiamo detto la volta scorsa Marcel Duchamp nel 1919 realizza un ready made tutti dicono ha messo i baffi alla gioconda no non ha messo i baffi alla gioconda è la show qui mi dispiace per chi ha potuto capire anche l'allusione pesante in francese è un ready made su cartolina è un mettere i baffi alla cartolina della gioconda è vero che lui aveva scritto che prima o poi avrebbe voluto usare un Rembrandt come asse da stiro però non l'ha mai fatto è un ready made concettuale quello lì iper concettuale immateriale non l'ha fatto ma in realtà ha messo i baffi e il pizzetto e la scritta sotto alla cartolina della gioconda e conta molto se lo fai su un oggetto che ha il suo diciamo così che è un originale multiplo o su un oggetto unico chi ha fatto qualcosa di molto più radicale Alexander Brenner il performer russo che nel 97 ha spruzzato il simbolo del dollaro su un quadro suprematista di Malievic in esposizione allo Stedele di Amsterdam e per aver fatto questo si è beccato dieci mesi di carcere due anni di interdizione dal museo lui sostiene che non l'ha fatto contro Malievic ma anzi in sinergia con i temi di Malievic che ovviamente erano di purezza e lui ha segnalato che c'era una corruzione dovuta al denaro che andava a intaccare definitivamente questa purezza dal punto di vista del contenuto l'evento era perfettamente calibrato peccato che poi dieci mesi di carcere sono effettivamente a seguito di un reato non è che te li danno per reati d'opinione diciamo così tutto ciò riassumendo cosa va a che itinerario mentale va a costruire un itinerario mentale che ci dice che le fotografie sono oggetti anche quando sono non oggetti sono comunque virtualità e in questo senso vivono dentro l'oggetto che li fa vivere fin tanto che vivono e la loro grana in quel momento è quella della loro apparizione davanti a noi che ci dichiara che sono quello che sono pixel appena sono oggetti reali diventano grandezze peso matericità odore danno perché il danno ci sta e l'abbiamo detto anche la volta scorsa incorporare il danno nell'esistenza questo fa sì che ogni oggetto abbia una sua biografia sociale abbia una sua storia e disegni la sua storia con noi se ne siamo testimoni proprietari fiancheggiatori e quant'altro ma soprattutto dice anche tutto ciò tutto questo che abbiamo detto partendo da una copertina di un disco molto popolare non pop dice anche un'altra poi vi dico perché dice anche un'altra cosa ovvero dice che tutto ciò che noi abbiamo davanti è un'immagine e soprattutto nel caso della fotografia dove tutto questo rapporto tra mondo e immagine sembra sfumato sembra quasi sparire perché parliamo di cose perché le cose si mostrano e vengono date a vedere a noi in quanto tali beh questi casi estremi in cui le cose invece spariscono per qualche motivo ma non sparisce la fotografia e sono dei casi che ci mostrano chiaramente quel che già nel 28 diciamo nel 28-29 ci diceva Magritte questo né questo calligramma né questo disegno sono una pipa nonostante io vi dica che questa è una pipa però io vi dico questo non questa voi dovrete aver capito che un'immagine è un'immagine un'opera è un'opera e che perché un'opera diventi vita c'è bisogno di uno sforzo suppletivo di apertura verso le pratiche di vita degli altri per cui se me la tengo non è per gli altri se mi parlo da solo non è per gli altri se non comunica non è per gli altri ed è lì che dico l'LP degli U2 da cui siamo partiti non è un LP pop non lo è ma non lo vuole neanche essere perché Bonavox diceva il pop non ti dà tante soluzioni per esistere se hai un problema il rock magari ti dice esiste sto problema il pop ti dice non c'è problema il rock ti dice c'è un problema possiamo farcela e in questo senso il rock ha sicuramente dei messaggi ha una voglia di comunicare e parla col cuore così come stiamo dicendo che faceva la copertina degli U2 tant'è vero che quel disco fu la fine di tutto il periodo berlinese vendersiano degli U2 ritornarono a fare un disco con una copertina bianca e nero suonato dove l'evento massmediologico era decisamente in sottordine subordine rispetto alla musica e questa è una è qualcosa che milita dal punto di vista della realtà era reale necessario andare a riprendere incidere a Dublino e andarono lì era necessario ricompattare le fila e rimettersi in comunicazione con la musica e lo fecero e la fotografia era un veicolo perché nel 2000 si poteva fare tutto si era fatto già quasi tutto si scelse di fare una una digitalizzazione morbida che però partiva da un fotochimico analogico e molto imperfetto totalmente fuori fuoco eccetera eccetera che però noi abbiamo noi abbiamo questo originale dentro casa se ce l'abbiamo perché il titolo fa parte di quello che hanno da dire perché la citazione biblica fa parte di quello che avevano da dire e la musica e i suoi testi fanno parte di questa immagine quindi noi a casa abbiamo l'originale di questa immagine e tutto ciò che vuole dire ci arriva perché vuole arrivare e le immagini quando vivono arrivano alla prossima grazie dell'attenzione grazie grazie